nuovo corso di laurea e nuova location ci troviamo qui nel salone degli affreschi al rettorato quindi il corso che vi propongo e che vi illustro brevissimamente scienze dei beni culturali turismo arte archeologia di che cosa tratta questo corso e che cosa affronta questo corso di laurea i beni culturali da triangolature diverse rivolti al passato l'archeologia alla storia dell'arte e quindi al suo rapporto con la città e al turismo al turismo come promozione del bene culturale è un corso di laurea triennale un corso di laurea ad accesso libero quindi le iscrizioni sono aperte a partire dal primo maggio 2021 e vi aspetto